Occe con Capitan Cauli si parte si parte verso l'igniotto Abbiamo i paragoni sotto Vediamo cosa ne viene fuori, abbiamo un bel pascione sotto E' un pascione qua tutto Siamo fermi, sono a 10 metri, 15 metri Sono sopra la mangiata A noi mancano 20 metri Eccolo, il grande è qui Passo di nuovo Nooo Nooo Dai che bellissima Ma dovevi il rai? E' un bel pascione qua Ma dovevi il rai? E' un bel pascione qua Ma dovevi il rai? E' un po' più che sta riprendendo Un po' più che sta riprendendo Ricordami che quando abbiamo un'oretta lì Ti insegno come si fa Vabbè a f***a Quindi ho ferrato due volte E vado a lui Molla Bello, veramente un bel attacco Tutto bello Il mio compagno di pesca stava davvero le prime armi ma fatene affanculo, lo pubblico in grado, così rimane il video, due ferrate, molla e va da lui, può capitare, certo che può capitare, assolutamente, anche perché riconosce la mano, ma la ferrata sopra tutta, Japan style, Sato Todehiro, ancora bello arrabbiato ma l'importante è non mollare, non mollare mi ha fatto ridere, questa mi ha fatto ridere sta venendo improvvisamente caldo ecco l'appare, per il video, non mi ha fatto ridere questa scatola, scatola, diciamo, attacca sçocca, conesca, 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 conesca oma Questa è bella qua, questa è un bacchetto, questo lo dedico al mio amico, questo lo dedico al mio amico, al mio amico Sato Caoliro, che oggi non è potuto venire. Vuoi fare un altro, ti scoccia? Stai facendo solo foto, il mio amico.